Grazie a tutti. La stessa melodia utilizzata per più strofe di testo e più delle volte intercalata da quello che noi chiamiamo semplicemente ritornello, quindi la forma più semplice dell'aria che possiamo immaginare. Mentre poi il madrigale invece è una forma musicale molto più complessa e solo sul madrigale si potrebbe parlare un'ora, è la forma più diffusa polifonica italiana nel Cinquecento, è a contenuto amoroso e è una forma aperta. Quindi il contrario della forma strofica che vuol dire una forma aperta, una forma che musicalmente ha un inizio, un acme e una fine e procede così in stretta connessione con le parole del testo, proprio perché era concepito affinché la musica come diceva Monteverdi fosse serva dell'orazione, cioè servisse alla parola affinché la parola acquistasse più significato. Monteverdi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.